Salve a tutti, sono Gianfranco Marini e in questa videoguida vorrei proporre alcuni banali, noti a molti, consigli per aiutarci a comprendere un video in inglese. Noi sappiamo che ormai l'insegnamento e l'apprendimento fanno ampio utilizzo, il cosiddetto video-based learning dei video e sappiamo che il web è un archivio che contiene milioni e milioni e milioni di video però molti video, magari molto interessanti, sono in inglese e molti di noi non comprendono bene l'inglese questo è il mio caso. Cosa possiamo fare? Per esempio i video di Tededit, Ted Talk, sono estremamente interessanti e abbiamo però qui sto cercando un video per esempio di filosofia, quindi andiamo sulla P, ecco qui filosofi e abbiamo la possibilità di vedere i sottotitoli in italiano, perché quasi tutti i video di Teded, ecco adesso sceglierò questo, il paradosso della scelta, hanno la traduzione dei sottotitoli in italiano. Adesso tolgo l'audio, sta cominciando il video, vedete che qui abbiamo off, quindi i sottotitoli non sono attivi, li attivo e posso scegliere la lingua. Scelgo italiano, chiudo e come vedete abbiamo la traduzione in italiano, perfetta, non è una traduzione automatica, è una traduzione appositamente curata. Qui abbiamo video di unidisciplina su ogni tematica e problematica, sono veramente centinaia, notate un'altra utilità, vedete, dettagli, trascrizioni. Se io clicco su trascrizioni posso selezionare la trascrizione in italiano e in questo modo vedete automaticamente c'è anche il minutaggio, posso cliccando portarmi esattamente su questo minuto oppure al 3.20, vedete qui mi resta la miniatura e sono al minuto 3.20 con i sottotitoli in italiano e la trascrizione dei sottotitoli stessi, quindi sono delle ottime funzionalità che rendono questi video universali. Questo invece è un video di YouTube di Richard Byrne che io seguo costantemente, mi piace molto, spesso prendo spunto da quello che lui propone, però è in inglese, il mio problema come quello di tanti che non conosco bene questa lingua non riesco assolutamente a seguire. Posso provare in vari modi, faccio partire il video, adesso ho tolto l'audio e vedete posso attivare i sottotitoli cliccando su questa icona che rimarrà, lo notate, sottolineata in rosso per farmi capire che i sottotitoli sono attivi. Come vedete qui abbiamo anche una traduzione in italiano, adesso interrompo e vi mostro. Cliccando sulla rotellina infatti abbiamo la possibilità di attivare i sottotitoli in italiano. Come si fa? Riportiamo tutto alla situazione originaria, i sottotitoli in questo caso sono in inglese, come vedete quando l'addizione è chiara e quando non ci sono troppe espressioni gergali tecniche la traduzione automatica in italiano può anche aiutarci. Vado sulla rotellina delle impostazioni, clicco su titoli generati e sottotitoli generati automaticamente in inglese e clicco su traduzione automatica e qui ho la possibilità di selezionare la lingua italiana. Come vedete i sottotitoli sono tradotti in italiano, ma per solo un argomento storico che stanno ricercando, così quelli sono i miei cinque, come vedete la traduzione essendo automatica non sempre è comprensibile, ma insomma il significato all'ingrosso si capisce, a volte ci sono effetti anche molto comici, quindi al limite o al massimo volevo dire ci si può fare una risata. Bene, vediamo un'altra possibilità, se io riesco a seguire in inglese, io talvolta ci riesco, può essermi utile però rallentare la riproduzione del video, è possibile fare anche questo. Vi mostro, torniamo ai sottotitoli in inglese, io qui ho la possibilità di seguire i sottotitoli generati anche questi automaticamente e l'audio, che se non si sente perché l'ho tolto. È troppo veloce però per me, cosa posso fare? Chiedo scusa, torno indietro. Cosa posso fare allora? Posso andare sulle impostazioni e vedete la velocità qui è normale, posso ridurre la velocità per esempio a 0,75, quindi a tre quarti. Clicchiamo e vedete che adesso va molto più lentamente. Esagerando a 0,25, notate i sottotitoli come sono più lenti, notate anche dall'icona di Richard come è più lenta la riproduzione. E questo mi dà la possibilità di seguire più facilmente dall'inglese. Bene, spero che questa breve guida vi sia stata utile. Per me scoprire queste cose è stato molto utile. Vi ringrazio e vi saluto. Il fipma effetto di Sottotitoli.